Grazie mille per questa disponibilità e grazie a tutta l'organizzazione. Diciamo che io rappresento qui oggi una piccola Repubblica, la Repubblica di San Marino, piccola che però io sono convinta che se facesse una domanda in questa sala chiedessi delle informazioni riguardo a San Marino, sono convinta che molti non ne parlerebbero molto bene perché San Marino purtroppo è sotto inchieste italiane, questo perché San Marino ha sviluppato un tipo di economia basato sulla speculazione della finanza, dell'immobiliare e dell'innovazione. Noi siamo qui oggi a rappresentare un piccolo movimento di persone che rappresentano la società civile all'interno del nostro Parlamento, che non sono avvocati, non sono commercialisti, non sono notai, ma sono semplici persone che intendono rappresentare un nuovo modello che richiede la società civile. Per cui siamo oggi qui a chiedere, innanzitutto a ringraziare e a sottoscrivere con tutte le intenzioni di portare al nostro Parlamento le tematiche portate all'interno della carta di Arcevia. Ma siamo qui anche per un altro motivo perché riteniamo fondamentale che la nostra piccola Repubblica possa cambiare modo di interpretare il modello culturale ed economico attraverso la creazione di un nuovo modello culturale. Noi non abbiamo il potere decisionale all'interno del Consiglio perché siamo una piccola parte, ma possiamo anche cambiare il metodo perché mentre al momento le decisioni vengono prese dall'alto e portate al di sotto, noi invece abbiamo un altro tipo di potere che non è quello decisionale ma è quello partecipativo. Quindi abbiamo intenzione di partire da questo modello, un modello di tipo partecipativo. Nonostante siamo pochi mesi nel nostro Parlamento abbiamo già ottenuto dei importanti risultati, uno su tutti è proprio il blocco da parte della nostra normativa di incentivare ad esempio le biomasse. E questo è per noi un grandissimo risultato. Volevo solo sottoporre l'attenzione perché come Movimento stiamo valutando, oltre a con onore e orgoglio sottoscrivere la carta di Arcevia oggi, stiamo valutando una possibilità incredibile che riteniamo possa avere San Marino. San Marino è all'interno dell'Italia ma per fortuna è fuori dall'Europa, non ha l'obbligatorietà di essere sottoposto alle normative europee. Questo rappresenta per noi un grande potenziale che però vi chiediamo aiuto per fare in modo che si possano raggiungere proprio degli obiettivi. Quindi chiedo a chiunque in questa sala che è stato fonte per noi veramente di grande ispirazione di apportare a questo nostro progetto qualsiasi tipo di capacità di portarlo avanti in maniera concreta. Quindi vi ringraziamo veramente per questa grande opportunità e diamo la nostra piena disponibilità per cercare di portare avanti questo modello che anche se siamo in pochi è possibile attraverso la partecipazione. Grazie.